Scarsità di cibo e accesso all'acqua sono le due emergenze della giornata mondiale dell'alimentazione celebrata a Roma nella sede della FAO. Un tema che il presidente Mattarella ha affrontato all'apertura dei lavori richiamando innanzitutto al dovere di adoperarsi perché il mondo non abbia più fame e sete perché in gioco ci sono anche la stabilità e la pace nel mondo. La fame del resto è causa concorrente o scatenante di violenze e anche di guerre e contrastarla costituisce una preziosa opera di pace. Lo scenario di fame e guerra che evoca il capo dello Stato è ampio, il Medio Oriente in fiamme, il conflitto nel cuore dell'Europa ma anche l'insicurezza alimentare e la scarsità di beni essenziali nelle aree del pianeta flagellate dai cambiamenti climatici. È un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto. Al contrario, cibo e acqua sono testimonianza della indivisibilità del destino dell'umanità. Dare vita alla dignità delle persone e ai popoli di ogni latitudine, continua Mattarella, è la sfida che interpella tutti. Lo confermano anche i numeri della fame e della sete nel mondo. 2 miliardi e 400 milioni di esseri umani che vivono siccità tremende. Oltre mezzo miliardo non hanno acqua potabile.